Buonasera a tutti e benvenuti al laboratorio dal basso Ecost, siamo alla seconda edizione. Il tema è il centrale, il turismo, come ben sapete, e in questi giorni abbiamo diversi moduli. Colgo l'occasione per ringraziare DAB, che ci ospita, i GAL Sud-Est Barese, che ci ha supportato economicamente ma anche a livello organizzativo, Novello Sotto al Castello, l'evento che si terrà in questo weekend e i ragazzi della Compagnia del Turlo ci hanno supportato, anche loro. Associazione Startup Turismo, l'associazione che da lontano, da Bologna, ci supporta in ambito innovativo, quindi nella promozione di eventi sul web. E Puglia Promozione, che da anni supporta le giovani start-up che si affacciano al turismo. E naturalmente Arti Regione Puglia, che come impresa che investe da anni nell'innovazione, trova sempre una spalla molto efficace. Siamo alla seconda edizione di Laboratori dal Basso e quest'anno abbiamo cercato di dare un tocco, di portare, di introdurre delle novità in ambito di ospitalità turistica pugliese, invitando i docenti Davide Valpreda, Alessandro Rubino, Anna Grazia Laura, Silvestro Silvestroli e Alma Sinibaldi. Passo la parola a Domenico, che oggi rappresenta Arti Regione Puglia. Grazie Francesco, benvenuti. Io sono Domenico Centrone, sono uno dei referenti dell'iniziativa Laboratori dal Basso, che è per l'appunto questa iniziativa regionale voluta dall'Arti, l'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione e il programma regionale per le politiche giovanili bollenti spiriti, ed è un'azione di supporto a tutte le giovani realtà imprenditoriali pugliesi. Un supporto non di tipo economico, ma l'obiettivo è quello di accrescere le capacità e le competenze di tutte le giovani realtà imprenditoriali pugliesi, con l'obiettivo per l'appunto di dar loro la possibilità di apprendere sulla base dei propri bisogni per fare meglio quello che tutte queste giovani realtà imprenditoriali fanno. L'essenza dell'iniziativa Laboratori dal Basso sta nel suo stesso nome, quindi sono dei laboratori, quindi dei percorsi di apprendimento erogati dal basso, ideati, progettati per l'appunto dal basso. Il ruolo dell'Arti, quindi il ruolo istituzionale, è un ruolo prettamente da facilitatore. La palla in mano completamente ai giovani pugliesi, i quali hanno la possibilità di organizzare questi laboratori, quindi questi percorsi di apprendimento più o meno strutturati, andando a definire il cosa imparare, da chi impararlo e come impararlo. Quindi individuando le tematiche di interesse per accrescere le proprie competenze sulla base dei propri bisogni di apprendimento, individuare i migliori docenti al mondo da cui apprendere e anche le migliori modalità formative, quindi lezioni frontali piuttosto che project work, esercitazioni pratiche. Quello che noi facciamo come Arti è portare i docenti qui in Puglia, a casa vostra, a casa nostra, per poter apprendere per l'appunto dai migliori docenti, dai docenti che sono stati individuati. L'iniziativa Laboratori dal basso si declina in tre azioni. I laboratori, che sono per l'appunto quelli che vi ho descritto, dei percorsi più o meno strutturati, che possono avere una durata fino a 100 ore, quindi 100 ore di apprendimento. Le testimonianze che sono degli incontri one shot, quindi incontri di breve durata, con relatori che abbiano fatto qualcosa di rilevante nel campo dell'imprenditoria e dell'innovazione. E poi una terza iniziativa che è un'iniziativa di mentoring, in cui alle giovani realtà imprenditoriali pugliesi viene affiancata una persona, quindi un profilo senior, quindi un mentore, che mette per l'appunto a beneficio della giovane realtà imprenditoriale la propria conoscenza, la propria esperienza. Attualmente l'iniziativa Laboratori e testimonianze sono concluse. Si stanno realizzando tutte le iniziative che sono state valutate positivamente, così come questa. Quindi l'invito è a tenere monitorati i nostri canali, il sito internet laboratoridalbasso.it e la nostra pagina Facebook Laboratori dal basso, per essere aggiornati su tutte le iniziative, tutti i laboratori che sono in corso attualmente e che saranno in programmazione da qui fino al 31 di gennaio. I temi sono i più disparati, i settori che vengono affrontati sono i più disparati, proprio perché l'approccio è totalmente dal basso. Invece è attiva ancora la terza iniziativa di mentoring, quindi qualora vogliate partecipare in qualità di mentore o essere affiancati da un mentore in un percorso per l'appunto di affiancamento, di mentoring, potete fare ancora domande e richieste per l'attivazione di tale percorso entro il 31 gennaio. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito, per ogni informazione comunque mi tratterrò un po' qui, quindi sono a piena disposizione. Ringrazio Francesco e quindi i proponenti per aver proposto e organizzato questo laboratorio che naturalmente è stato possibile grazie alla loro progettualità. Naturalmente tutti voi per essere qui presenti e al docente per aver accettato l'invito a essere qui oggi con noi. Vi auguro un buon laboratorio e grazie. Sì, concludo l'introduzione ricordando gli appuntamenti di questa settimana, perché sono veramente tanti. Oggi abbiamo Davide Valpreda di Team Cloud, tema visibilità online, web marketing e email marketing. Domani alle 16 Alessandro Rubino di Tree of Life, vocazione del turismo pugliese. Anna Grazia Laura di ENAT, European Network for Accessible Tourism, sia giovedì che venerdì alle ore 17, solo che venerdì sarà a Conversano. E sempre a Conversano, tutta la giornata del sabato, abbiamo la mattina Silvestro Silvestori e Waiting Table, enogastronomia come esperienza di viaggio in Puglia, e Anna Sinibaldi di ABAP con la Puglia, la cultura della vigna, questo sabato pomeriggio alle 15, quindi da venerdì ci trasferiamo a Novello Sotto al Castello, sperando anche di bere qualcosa di buono. e niente, vi aspettiamo lì. Per chiudere, presentiamo quasi in anteprima la versione nuova del nostro sito, come sapete noi di Tournel Sud da anni cerchiamo di promuovere all'estero la Puglia come destinazione sostenibile, tipica, legata alla gastronomia e accessibile, e nel 2015 avremo nuovi operatori, la funzione di questo laboratorio è anche di lavorare con voi operatori, so che so dei profili, conosco i vostri profili, quindi guide, agenzie di viaggio, anche altri tour operator, perché li vediamo appunto come componente di una rete, non come concorrenti, o anche tour in affitto, hotel, sono tutti operatori che teniamo, che insomma, su cui puntiamo e che vogliamo entrino a far parte della nostra rete. Nel 2015 il nostro sito avrà una sezione appunto dedicata alle strutture ricettive selezionate, secondo criteri di sostenibilità, sia dal punto di vista manageriale che dal punto di vista delle certificazioni ottenute, suddivise appunto per dagli agroutilisi maitrulli, ai B&B, quindi anche private, alberghi diffusi, e anche strutture luxury. Poi avremo la sezione dedicata ai bio ristoranti, in cui sarà più semplice prenotare direttamente, organizzare eventi assieme ai ristoratori locali. I tour, questa è una cosa che interessa molti di voi, so benissimo, dedicate alle guide che sposano la nostra mission. Abbiamo le active, i itinerai accessibili, le visite guidate, quelle culturali, enogastronomiche, i tour di gruppo che stanno andando molto bene e quelli poi specifici con le attività in mare, noleggio bici, come al solito, la gastronomia con le cooking classes, qui sabato approfondiremo con gli operatori che si stanno interessando, la sezione meeting, le guide online che poi nel lungo periodo verranno arricchite anche con audio guide scaricabili e la sezione dedicata ai marchi, alla visibilità dei marchi che stiamo comunque cercando di ottenere, alcuni li abbiamo già ottenuti, e gli standard in ambito di turismo accessibile e sostenibile. Poi abbiamo la novità grazie all'azienda tedesca Atmosphere che ci consentirà, appunto consentirà all'utente di compensare con una donazione calcolata in base alla CO2 emessa i voli che qualsiasi turista e visitatore della Puglia nel mondo prenoterà per arrivare a Bari o a Brindisi. Quindi ci sarà un semplice calcolo grazie a questo software che ti dirà, non so, da Berlino a Bari per compensare la CO2 emessa costerà, non so, una donazione di 8 euro. Questa donazione va direttamente alle associazioni locali o in Italia che si occupano di protezione ambientale, quindi piantano alberi, proteggono anche parchi nazionali, nazionali, eccetera, eccetera. Quindi questa, grazie ad Atmosphere che è un'azienda tedesca veramente molto all'avanguardia, daremo anche questa possibilità qui. Adesso passo la parola, non vi scoccio più, passo la parola a Davide Valpreda, Team Cloud, visibilità online, web marketing e email marketing. Grazie. Parlo qui, sto fermo, non mi muovo, non posso fare niente perché posso solo alzarmi, piano piano, perché se no mi hanno detto che impallo tutto e quindi non funziona lo streaming. Allora, innanzitutto, grazie a Francesco dell'invito, non certo grazie al fatto che io l'abbia accettato, cioè grazie a voi. Arrivo dal profondo nord, quindi voglio dire, però mi sto trovando talmente bene perché credo che mi fermerò ancora una settimana perché ho fatto 4 check-in su Facebook, ho ricevuto 87 inviti da Alberobello, a Lecce, andare a mangiare, qualcos'altro. Se voi ne volete aggiungere, in diretta streaming, se fate in fretta, non dovrebbe esserci mia moglie, quindi voglio dire, se volete aggiungere voi altri inviti, io mi fermo, ok? Quindi torno anche torno anche a mie spese, quindi arti esonerato proprio dal... Allora, ci siamo conosciuti con Francesco al Nofrilla, Bergamo, a una fiera di settore del travel che magari qualcuno di voi conoscerà o magari frequenta. Ci siamo scambiati due impressioni così generiche su questo mondo dell'innovazione del turismo e poi di conseguenza si è tramutato in un invito. Molto, molto piacevole. Torno a Bari dopo un po' di anni. Sicuramente la Puglia indiscutibilmente avete fatto un salto di qualità dal punto di vista del turismo. Poi alla fine sorrideremo su un filmato che magari alcuni di voi hanno già visto, una parodia di TripAdvisor dove battete la Sardegna 5 a 1. L'avete visto? È bellissimo. E questo la dice lunga su quanto voi siete riusciti a fare in questi anni. Veniamo all'argomento del giorno. Io cercherò di essere il meno... Adesso io non posso parlare in inglese oggi perché siamo in streaming quindi non posso dire parolacce. però cercherò di essere il meno palloso possibile. Voi dovreste però per cortesia interrompermi in qualunque momento perché una comunicazione monodirezionale di qualche ora è veramente un'angoscia. Quindi ci sono posti deputati a fare questa comunicazione che non mi vedono come fruitore di questa comunicazione quindi per cortesia interloquiamo durante queste ore. Abbiamo scelto con Francesco due macro-argomenti. Uno specificatamente legato alla comunicazione e quindi all'email marketing. Il secondo per quanto riguarda la visibilità sui social. Io non ho ancora capito perché leggendo la carta di identità deve essere una sfiga però in alcuni casi potrebbe essere anche una fortuna di tutti questi anni che diciamo così mi tocca stare su questo mondo più o meno del turismo ma non solo ma nell'ambito della comunicazione se fossi in grado di scrivere la Divina Commedia mi farebbe un baffo ma solo che io non sono in grado di scrivere e quindi non posso scrivere nulla in base all'evoluzione che abbiamo visto in questi ultimi anni. L'unica cosa che vi chiedo è in sala Francesco mi ha passato le presenze è sempre veramente brutto quando uno non ha un polso della situazione cioè voi siete proprio variegati al massimo ovvero siete operatori del turismo però potete essere guide ristoratori hotellerie tour operator agenzie di incoming corretto studenti chi più ne ha più ne metta c'è proprio di tutto e di più quindi io faccio degli esempi concreti adesso perché se no ripeto la pallosità diventa veramente devastante alcuni esempi sono un po' eclatanti cioè nel senso che si riferiscono ai viaggi alla ristorazione ma perché comporta un come posso dirvi un un immediato riscontro se però alcuni di voi hanno una casistica particolare sul tipo di attività che voi svolgete per cortesia ditemelo perché magari al volo recuperiamo degli esempi analoghi e così sono più confacenti ok allora partiamo dall'email marketing mentre dopo guardiamo la visibilità sui social se volete alla fine possiamo fare anche a me piace molto perché è una cosa molto concreta nell'ambito dell'email marketing entriamo dentro nel cuore di una piattaforma di email marketing perché molto spesso la teoria se non è seguita dalla pratica è veramente il nulla possiamo anche aprire non ci sono segreti alcune delle pagine facebook che io gestisco per conto o direttamente o per conto di clienti così tocchiamo con mano se vi interessa proprio alla fine possiamo anche andare a dare uno sguardo che dovrebbe essere l'anello di congiunzione qui non ce lo potevamo permettere come numero di ore su che cosa vuol dire mettere mano a una piattaforma web perché poi ovviamente tutto dovrebbe convogliare su diciamo una pista d'atterraggio giusto quindi prima Francesco vi ha fatto vedere quel look and feel del loro nuovo sito molto gradevole molto usabile molto performante peccato che dietro ci sia una struttura che è da popolare da gestire i contenuti o quant'altro e quindi fin tanto che uno non si schianta nel vedere che cosa succede il dietro le quinte molto spesso la distanza tra il palco e la realtà è veramente tremenda anche perché voglio dire signori ne parlavamo prima con Francesco io vedo persone che girano vanno a fare corsi workshop seminario quant'altro alcuni si spacciano per guru altri per evangelist altri per quasi Gesù Cristo calato in terra molto spesso diciamo che così le slide che vengono usate sono le stesse negli ultimi tre anni sono sempre quelle in teoria in questi mondi qui io il 50% di quelle di un mese fa ho dovuto buttarle e se proprio vogliamo andare a vedere avrei dovuto buttarne il 70% sto parlando di una manifestazione di ottobre simile a questa a Bergamo partiamo da qui che è uno dei tasselli della comunicazione scelto con Francesco la descrizione il pistolotto di chi è il sottoscritto voi fate una cosa entrate in google scrivete nome e cognome battete invio e se vi interessa leggete se non vi interessa non lo leggete fine della presentazione ci siamo conosciuti qui in questo stand di No Frill l'ho rimesso Francesco perché c'erano le caramelle che ti ho offerto perché diciamo il nostro ingaggio è nato sulla caramella giusto e quindi ci siamo adesso le luci sono un po' così quindi voglio dire ci siamo conosciuti in questo stand vedete prima Francesco diceva in cloud travel advisor travel advisor è un portale di informazione se arriviamo al fondo a trattare questo argomento della visibilità sul web ricordatemi che vi faccio vedere che cosa dopo nove mesi di vita oggi questo portale è un portale di informazione dedicato al travel chi opera nel travel qui? blogger come 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 in coming tour operator ok perfetto agenzie di viaggio quant'altro è un portale dedicato a informazioni tematiche amministrative contabili e marketing per il mondo del travel mi interessa farvelo poi vedere alla fine per farvi vedere come google ha digerito questo portale in nove mesi su keyword di parole chiave di ricerca che restituiscono milioni di risultati e noi siamo nelle prime tre quattro posizioni davanti a trip advisor ad esempio e questo è legato al concetto dei contenuti ok e quindi se arriveremo a parlare del portale ricordatemi questa cosa qua ricordate anche che la mia carta di identità non recita a favore quindi voglio dire la memoria è quella che è e quindi portate pazienza non devo metterla a mano qui perché sennò poi non si sente allora parliamo delle mail le mail è un concetto piuttosto infuocato come vedete questa questa immagine provocatoria perché ne dichiarano la fine da tanti anni io adesso non so voi se siete operatori ad esempio tenete conto che un'agenzia di viaggio mediamente riceve 300 350 mail al giorno ok di cui credo che 10 o 20 siano quelle realmente utili e le altre no quindi c'è una sovraesposizione mediatica dal punto di vista della comunicazione gli hotel ormai lavorano solo più carteggiano proprio con clienti o con fornitori tramite mail ma qualunque azienda no dopodiché qualcuno ne dichiarava la fine perché la mail ormai è uno strumento che è praticamente sta quasi per fare la fine del fax in realtà io adesso vi lancio un una piccola un giochino che dice che cosa sta succedendo in internet in 60 secondi magari qualcuno di voi l'ha già visto no è uno strumento raccolgono dei numeri da varie fonti attendibili e e quindi adesso se abbiamo ancora la pazienza di aspettare per una ventina di secondi voi vedete che ci sono milioni di ricerche su google e le mail inviate sono 75 milioni 80 milioni 90 milioni 100 milioni si assesterà probabilmente in 60 secondi quindi direi che secondo me proprio morto lo strumento non è perché voglio dire qualcuno che manda mail c'è ancora se ne resume che ci sarà ancora qualcuno che le va a leggere poi ci sono altri dati molto interessanti ma ci porterebbero in questo momento fuori strada sono 150 milioni mediamente eccolo qua 150 milioni di mail inviate poi andremo a vedere che cosa succede su facebook ma ne parliamo dopo perché lì i numeri sono quasi impressionanti ok quindi torniamo a bomba qualcuno che scrive mail c'è ancora ok qui avevo messo una slide che se non ci fosse stata la connessione di rete ad esempio erano 204 milioni in quei 60 secondi di fee però non cambia assolutamente nulla quindi vuol dire che se qualcuno manda una mail probabilmente la legge allora veniamo al nocciolo alla concretezza totale outlook io so che qualcuno di voi non dormirà stasera avrà delle crisi cioè outlook non è lo strumento per mandare delle mail professionali cioè mi spiace vedo che la signora sorride e ammicca in prima fila adesso si è già nascosta la signora quindi la signora probabilmente avrà quelle 10.000 cartelle sulla sua sinistra tutto divise mail inviate tizio caio sempronio in arrivo quant'altro ecco lo strumento non è questo ok poi vedremo perché non è lo strumento outlook per mandare della comunicazione professionale nel qual caso voi siate ristoratori siate albergatori siate operatori del travel siate anche blogger se avete una mailing list no? ok quando sentite parlare quindi di comunicazione professionale molto spesso i guru gli evangelist parlano di dem e uno dice ma che cosa cavolo è sto dem è il direct email marketing cioè bisogna mandare delle mail ok detto proprio molto concretamente una mail non si nega a nessuno e quindi io adesso non pensiate che io sia dei servizi segreti che vuole uccidere e distruggere Microsoft ma neanche Excel è il deposito delle mail dove io le colleziono quindi non è Office lo strumento con cui io devo collezionare le mail e soprattutto inviarle ma poi vedremo perché ok allora gli strumenti professionali che ci consentono di mandare delle mail in modo massivo hanno anche se sono strumenti professionali la possibilità di catturare una mail nel pieno rispetto della normativa vigente quindi io uso il nostro portale perché è un esempio ma ne esistono tantissimi altri purtroppo anche i big commettono degli errori quasi incredibili nel rilevare l'indirizzo e mail della persona che potenzialmente potrebbe diventare cliente o quant'altro e poi vi spiegherò perché questi strumenti invece professionali mi consentono di rispettare completamente la normativa in vigore quindi se nel mio sito o in un qualunque punto che ragionevolmente può essere il sito e poco altro però esistono anche altre possibilità di catturare una mail tramite delle app di facebook comunque parliamo del sito questi strumenti mi consentono di disegnare un form che è compatibile con il layout del mio sito dove io introduco la mia mail perché voglio restare aggiornato su offerte promozioni informazioni o quant'altro ok bene molto spesso accade di tutto e di più cioè nel senso che voi mettete la mail e poi vi arriva un benvenuto grazie grazie di essere iscritto finisce così non vi arriva una conferma cioè non vi arriva null'altro che un ringraziamento drammaticamente ripeto anche su big quindi proprio aziende grandi non vi arriva neanche un ringraziamento al che voi dite boh la presa non la presa rimettiamo la mail battete invio e quant'altro la problematica è questa poi se volete quando passiamo dal dietro le quinte vi faccio vedere proprio com'è la composizione io devo recepire questo indirizzo mail dal mio sito scusate deve arrivarmi una mail dove mi spiega per filo e per segno che cosa ne fate di questa mail quindi mi deve dare la normativa della privacy vigente come trattate questo dato poi vi faccio anche vedere uno strumento da 20 euro all'anno che vi toglie tutti i problemi del mondo a quel punto se io confermo entro nel famoso contenitore che non è Excel ma è all'interno della piattaforma una lista di questi potenziali clienti facciamo degli esempi concreti Francesco ha sul portale tematiche molto diverse turismo accessibile enogastronomia o quant'altro lui potrebbe mettere 3-4 form di iscrizione alle newsletter assolutamente tematiche metti qui il tuo indirizzo email allora una sopra metti qui il tuo indirizzo email se ti interessa tutto di me lui prende quell'indirizzo email e queste piattaforme in automatico lo portano in n contenitori tutti i contenitori che lui ha abilitato prima nel back office se non sono chiaro mi fermate se invece io voglio solo essere sono interessato solo al turismo enogastronomico perché io da ieri sera che mi portano a mangiare cioè è una roba spettacolare stare qua a vivere qui bene tornerò rotolando probabilmente ma voglio soltanto informazioni al turismo enogastronomico inserirò la mia mail solo nel form delle informazioni legate al turismo enogastronomico ok io non vengo bombardato di mail inutili che non me ne frega niente lui ha una profonda profilazione profonda ha una significativa profilazione dell'interlocutore e ragionevolmente quando gli parlerà di una sagra di un evento di una manifestazione è molto probabile se questo non è stupido in origine che questa persona sia molto più interessata di un generalista nel leggere la mail di Francesco ok quindi questi strumenti vi danno questa possibilità ve le immaginate questo film girato in Excel in Outlook impossibile ok è bella domanda signora allora si la signora adesso viene qua e prosegue lei e io mi siedo no 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 la signora ha centrato al 101% la la ah deve cancelliamo tutto rifacciamo signora ah è bene vabbè però mi ha messo in imparato ma no ma no ma no allora ripeto io ripeto io ripeto io per lei la signora giustamente dice perché siamo in streaming che e adesso io la prendo come mia collaboratrice perché ha fatto una domanda non solo mirata ma veramente giusta dicendo ma se io metto una pagina dedicata dove metto le preferenze e così invece di far mettere la mail metto una due tre quattro spunte e così via assolutamente sì c'è un minimo più di lavoro che lei deve far fare al suo webmaster che deve prima raccogliere le spunte e poi colloquiare con questi sistemi colloquiare con questi sistemi signora e andare a inserire all'interno del diciamo dei contenitori scusate io parlo veramente non mi metto a dire ok parliamo come come si mangia se no non ci capiamo e quindi assolutamente sì colgo l'occasione per per rilevare la sua perfetta osservazione nel dire che non commettete mai l'errore perché venite sanzionati con delle multe pesantissime perché in quelle pagine dove raccogliete la mail la spunta non deve essere mai preimpostata ok la spunta la metto io non ci deve essere una pagina dove io tolgo le spunte ok e non vi avventurate a chi a forzare una spunta in cambio di un servizio cioè uno uno sconto con una spunta no potete dirmelo potete potete ma la spunta deve essere sempre messa dall'utente che interloquisce con una vostra pagina ok e qui siete nel rispetto alla normativa dopodiché signora questa roba qui però le consente di prendere quella mail e aprire quello che in gergo tecnico si chiama un opt-in cioè arrivare a una mail a me che mi dice grazie ho visto che vorresti scriverti questi sono i termini di condizioni e quindi deve essere linkabile termini e condizioni deve portarmi una pagina per dire che cosa fa lei questa è la privacy e deve essere io se clicco confermo vi consiglio di cuore perché è molto apprezzato di dire qual è il numero medio delle informazioni che mandate io come utente lo apprezzo molto vi invieremo una due mail al mese poi se sono tre non muore nessuno ok quindi il numero del quantitativo delle informazioni che voi avete diciamo così sentore di mandare se me lo specificate nella pagina di benvenuto è molto gradito queste piattaforme ti danno la possibilità di avere anche poi un ulteriore mail di ringraziamento quando tu hai cliccato e confermato la tua iscrizione questo perché signori di idioti il mondo penso che converrete con me è stracolmo se non ci fosse il clic di conferma io posso entrare qui e mettere mail di chiunque se non ci fosse la conferma iscriverei a liste lo so che è idiota la cosa però credetemi che viene fatto ok quindi il clic di conferma serve a quello nella pagina di benvenuto ovviamente sarebbe auspicabile che magari voi possiate fare la prima marchetta io ogni tanto la faccio nel senso che grazie di esserti iscritto questo è il link per iscriverti alla nostra pagina facebook e così via guarda che fortuna ti sei iscritto proprio nel periodo che se clicchi qui fluisci dello sconto del 15% per venire da noi in negozio ok è già un modo alcune volte non è proprio il massimo però alcune volte ad esempio come da noi che è un abbonamento a un portale ci può stare ti do una mail di benvenuto e ti regalo un mese di abbonamento ecco una cosa del genere cioè lavorate sempre in modalità soft da questo punto di vista perché poi dopo il troppo potrebbe sempre crearvi dei problemi da dove iniziamo a fare i conteggi sul valore della mail iniziamo da delle moltiplicazioni banali chi è che ha un esercizio commerciale tra di voi nessuno hotel niente hotel non c'è nessuno perché lei ride bravo finalmente cosa dimmi perfetto allora tu sei marino allora se marino ha un negozio di ceramica e e quindi credo che la gente si recchi da lui per avere no necessità di e sono sono soltanto oggetti scusami passami la battuta opere c'è un'esposizione di prodotti opere sculture e quant'altro sì sì anche quindi un target di un certo tipo che va a cercare molto molto tu sei la famosa nicchia di mercato no perché voglio dire il verduriere non è una nicchia di mercato cioè insomma ce ne sono tanti andiamo tutti se marino su 240 giorni lavorativi in media poi marino può cambiarlo e non questi numeri raccoglie con un sorriso 10 mail al giorno o 5 mail al giorno la signora so già dove voglio arrivare lui a fine anno ha un patrimonio di 2400 mail o di 1200 o di 3600 io ho dei clienti che se facessero questo arrivano con 5000 mail 6000 mail a fine anno vi immaginate ieri ero al vicino allo Sheraton cosa c'è mi hanno mandato lì eh il ristorante vicino allo Sheraton quello a fianco i quattro i quattro gatti i quattro gatti vabbè c'era cliente era sicuramente abituale ma tanti non erano come me abituale io forse non faccio testo perché magari non torno più a Bari però lui ieri sera mal contati aveva 60-70 persone lì dentro ieri sera di lunedì ok se lui raccogliesse queste mail ok perché questo ragionamento qua dove voglio portarti marino se tu raccogli queste mail che ovviamente se hai un pc in negozio è sempre connesso quindi tu non devi neanche prendere il pezzo di carta me la può scrivere il sorriso niente gli dici lei cortesemente se vuole in realtà tu hai un form aperto sul tuo ma neanche il tuo sito potresti avere una pagina addirittura riservata perché potrebbe essere una pagina che non è pubblica che te la sei fatta scrivere solo per questo motivo e scrivi la mail in realtà se lui ha cambiato idea ricevendo quella mail di conferma non ti conferma l'iscrizione quindi tu non hai neanche bisogno di far stampare la carta la firma quello che tutto dovresti fare come routine da lì in poi quella persona nelle tue mani banalmente perché magari mi fai gli auguri a Natale che sono sempre graditi banalmente perché mi puoi scrivere quando hai delle offerte quando fai un'iniziativa quando magari fai che ne so una pericena perché fai una serata a tema ok io non ho modo di restare in contatto con te se non tramite te stesso Marino che ogni tanto mi dici che tu esisti i big player ci inondano di queste mail io purtroppo sono iscritto a tutte le newsletter del mondo credo per motivi di lavoro no del mondo no ovviamente però voglio dire lo faccio per vedere come comunicano come ti parlano come scrivono quant'altro alcuni sono veramente ossessivi ma quelli che ragionevolmente settimanalmente ogni 15 giorni mi ricordano che c'è qualcosa io leggo anche con attenzione quella cosa lì e ogni tanto procedo e faccio quello che si chiama la fase di acquisto io ad esempio sono iscritto a una newsletter che è Do You Wine che da noi in Piemonte è un aggregatore di produttori di vino è un'enoteca online con una chat sempre aperta di un enologo blogger che ti consiglia cosa comprare e io le sue 3, 4, 5 newsletter al mese le leggo tutte e ogni tanto dico beh quel dolcetto lì sì ne ho ancora no clicco e lo compro se lui non mi scrivesse credetemi è più facile che magari io purtroppo sia in un supermercato o in un ipermercato e magari compro quelle due bottiglie alla bisogna mentre invece io in quel momento lui continua a dirmi in un modo molto elegante che esiste che ha una bottiglia nuova che ha un vino nuovo o quant'altro e io do seguito a quel processo di acquisto dove ti voglio portare prendi questo numero prendi un poi ci sono dei numeri che tendenzialmente vedremo dopo più avanti di qual è la redditività di lettura il tasso di apertura il coinvolgimento quant'altro le statistiche non ormai i numeri sono abbastanza certi tu probabilmente con questo strumento che ti è costato ragionevolmente poco mettere in piedi può darsi che questo ti consenta di incrementare o agevolare anche solo agevolare il tuo fatturato su base annua e questo varrebbe per tutti per ristoratori per loro poi figurati ok quindi partite da questo ragionamento quante ne potrei diciamo così recepire fare mie profilandole tu magari non puoi profilare più di tanto perché tendenzialmente chi è entrato da te aveva quel bisogno quella necessità non è un po' come Francesco che magari ha sei o sette profili diversi perché lui ha sei o sette sfumature completamente diverse nell'offerta quindi partiamo da questo numero una volta che abbiamo lo strumento l'abbiamo implementato abbiamo fatto modo che le persone possano arrivare a noi abbiamo una base dati magari alcuni di voi alcuni miei clienti partono già da una base dati il famoso Excel che viene riversato all'interno di questi contenitori adesso vediamo quali sono gli errori che da evitare proprio nella maniera più assoluta perché ogni giorno se ne vedono di cotte e di crude allora quando scrivete a qualcuno signori il mittente è fondamentale perché voi vi state rivolgendo a un possibile acquirente ma comunque vi rivolgete a un interlocutore che attenzione vi ha consegnato un suo dato e quindi non è una persona diciamo poco importante da questo punto di vista molto spesso si vedono queste mail in arrivo da info chiocciola dem chiocciola commerciale chiocciola perché non usate questo anonimato tremendo voi siete delle persone voi avete un nome e un cognome queste piattaforme vi consentono di parlare con un vostro indirizzo email quindi non perché attenzione perché questa è una domanda che mi fanno tantissimi non è che perché usate queste piattaforme il mittente deve essere un mittente generalista imposto dalla piattaforma assolutamente no prestate attenzione che alcune piattaforme ultimamente non accettano più come mittente indirizzi email non di dominio quindi se voi avete un chioccio latinit libero gmail o quant'altro alcune piattaforme come indirizzo mail mittente questi indirizzi non di dominio non li accettano più cosa vuol dire un indirizzo di dominio cioè tu marino la tua attività come si chiama melangolo teoricamente melangolo tu c'hai punto melangolo punto it perfetto quindi sarà marino chiocciola se non avete un nome dominio tenete conto che un dominio costa una ventina di euro quindi non distrugge nessuna attività commerciale comprarsi un nome dominio non mi dite eh ma gmail è gratis vi prego perché perché non regge ok proprio non regge se fossero 20.000 euro un conto 2.000 euro un altro 200 un altro ma siccome qui stiamo parlando di cifre che non sono cifre il nome dominio tra l'altro vi qualifica anche a livello personale assolutamente e aziendale a quel punto io ho una mail ed ecco perché outlook cominciamo a chiudere a mettere i puntini su lei perché outlook non è il sistema perché outlook nel giro di qualche invio vi porta ma non perché outlook è cattivo perché funziona così questo mondo finireste in tutte le blacklist possibili immaginabili e le blacklist sono buchi neri dove viene identificato cioè prima che la mail parte dal mittente e arrivi al destinatario vi evito fa un giro ballonzola per vari server e viene valutata se è buona se non è buona con dei criteri ovviamente molto tecnici da degli algoritmi quindi non da degli umani che leggono 500 milioni 200 milioni di mail nel minuto no signori e quindi voglio dire se voi non utilizzate piattaforme abilitate all'invio massivo delle mail ovviamente correte un fortissimo rischio di diventare degli spammer uscire dai server di blacklist a parte che ci deve essere qualcuno che vi avvisi che ha ricevuto un messaggio dove torna indietro dicendoti uscire dai server di blacklist con il vostro webmaster cioè con lui che vi gestisce la posta elettronica credetemi che è tutt'altro che banale ok mentre invece queste piattaforme ci garantiscono il fatto non al 100% ma ci danno un'ampia diciamo così sicurezza che il nostro invio sia a buon fine e soprattutto non venga etichettato come spammer quindi voi non vi bruciate la mail di dominio ok l'oggetto l'oggetto è un altro punto saliente allora innanzitutto io che ricevo una mail da Mario o da Marino mentalmente sono più predisposto a leggerla perché è un concetto di io ad esempio provo nell'ambito delle campagne di mail marketing dei miei clienti a cambiare il mittente mittente che ovviamente deve essere sempre una mail esistente perché è banale dirlo ma io ve lo dico se uno fa rispondi poi ci deve essere qualcuno perché ok voi sotto la mail potete scrivere devi cliccare qui se vuoi una risposta devi solo telefonarmi o quant'altro ma lo troverete quello che fa rispondi quindi quella mail deve essere una mail esistente e quindi qualcuno la deve leggere io spesso faccio ruotare indirizzo scusate mittenti diversi a parità di dominio quindi magari scrivo Marino poi come si mette aperta parentesi Marino chiocciola quello che è certe volte cambio e in alcuni target di destinazione a volte ad esempio un indirizzo femminile statisticamente su NNVI ha più tassi di apertura più alti a parità di oggetto quindi cioè ci sono delle sfumature perché queste piattaforme qui ti danno poi lo vedremo una rendicontazione minuziosa di ciò che accade ok e questo è il mittente la mail vi prego col cuore di evitare delle banalità estreme e non introdurre dei fattori di rischio alla mail stessa nell'ottica dello spam quindi ci sono delle parole come scontissimo mega offerta il simbolo dell'euro gratis e così via che sono parole pericolose e contribuiscono nel punteggio totale della bontà della mail a farla diventare più o meno spam ok tenete presente che offerta scontissimo e cose di questo genere lo dicono tutti ok tutti ti dicono che ti regalano qualcosa tutti hanno la mega offerta tutti hanno la roba migliore del mondo invece l'oggetto dovrebbe essere qualcosa che dovrebbe iniziare a distinguervi nella comunicazione poi vedremo degli esempi alcuni dovrete dire che sono molto belli perché li ho fatti io ok come si lo dico no lo prima lo dico ok e poi tu dici questo mi sembra molto figo ok grazie non deve essere più di 67 no cioè non è che non deve essere certo che voi non potete raccontarvi mi non potete raccontarmi la mail nell'oggetto non potete dirmi anche leggi perché se non ne ho voglia già se me lo dici così avrei proprio voglia di non leggerla quindi la media è questa e poi anche nel corpo della mail vi prego vi scongiuro vi imploro così come sui social il maiuscolo non va usato perché il maiuscolo è urlato cioè voi non dovete urlare noi dobbiamo parlare il maiuscolo vuol dire è un urlo non c'è nessun non è che se perché voi mi mettete un oggetto maiuscolo diamo un senso di potenza e quindi voglio dire quella mail si aprirà da sola no non è così ok allora questa non è mia Marino non lo devi dire no no nel senso che scusami questo pezzo sotto si un pezzettino l'ho rielaborato ma era per una cosa però non è proprio mia quella mia viene dopo ti avviso dopo eccezionale ah poi io ho no no io ho il mio speriamo che non sia in streaming il mio socio nonché commercialista dell'azienda lui quando scrive a me per fortuna se non mi mette almeno 6 7 8 punti esclamativi lui non è felice oltre i colori no le faccine e così via in realtà è una persona molto seria ma non è che se mi mettete 7 punti esclamativi questo è più eccezionale cioè fatelo dire a me se è eccezionale ok Scozia a partire da 499 come se non sapessi che 500 euro a PAX poi parleremo che cos'è il PAX qui ho preso un esempio del travel perché io vengo bombardato di questi esempi questo è un po' lungo ma è soltanto ovviamente per dirvi che c'è un abisso giusto tra le due proposte hai mai pensato alla Scozia per una vacanza poteva fermarsi lì ok con il rischio che c'è quello che la legge dice ma non è posto di merda cioè ok non posso dirlo perché ok quindi manco la apre però questa attenzione signori che sull'oggetto della mail ve ne dovete fare una ragione infatti questi strumenti che vi danno il tasso delle aperture a parità dimittente cambiando gli oggetti si scoprono delle cose veramente molto interessanti a parità di destinatari ok dimmi grandissima osservazione rifaccio la domanda per lo streaming tu sei Maurizio dice perché ti metti in prima persona singolare questa è una osservazione geniale ottima perché perché introduce come voi vi rivolgete al vostro pubblico quindi la mail che fa parte di un progetto di comunicazione che i designer nel loro mondo la chiamano un'immagine coordinata no se io ho una mia immagine coordinata devo stare nell'ambito di questa immagine tu Maurizio dovrai rivolgerti nella mail ma non solo al tuo target al tuo pubblico come tu sei abituato a rivolgerti e come loro vogliono vorrebbero sentirsi parlare da te quindi questo è il travel nel travel ci si dà quasi sempre del tu non esiste lei se è un agente di viaggio che parla ai clienti anche a loro li ha abituati a dare del tu e la tua osservazione è fondamentale perché come tu ti rivolgi col voi con lei con ella o quant'altro nelle mail dovresti trovare un'analoga comunicazione sul tuo sito web e sulla tua pagina social o sui vari social quindi la tua osservazione è perfetta ok quindi scriviamo scusate come noi come noi come noi abbiamo in alcuni casi anche come tu hai abituato il tuo target il contenuto qui si aprono dei drammi questi proprio sono drammi esistenziali perché i contenuti delle mail molto spesso meriterebbero un libro allora lo so che è banale però è chiaro immediato e sintetico alcune alcune statistiche danno quei 5-7 secondi di attenzione non sono pochi scusami poi aspetta che devo no aspetta adesso questa se no me la fai io ho già una certa 7 secondi per il pesce rosso scoperto recentemente in un comagno non so quanto poi alla fine sia vero o meno io riporto quello che ho sentito dire è che noi abbiamo 5 secondi di attenzione la nostra soglie di attenzione il pesce rosso ne ha 7 ne ha 7 che non sembra il pesce rosso a chi ti rivolga un diciamo molto brillante attivo nel senso che voglio dire lì che gira ma questo dalla misura di quanto siamo noi siamo diventati noi rispetto al pesce rosso ok quindi se mandiamo una mail al pesce rosso la possiamo fare leggermente più puoi aggiungere anche 20 parole in più perfetto ok grazie Marino quindi se ci pensate però 5 secondi non sono pochi provate 1 2 3 4 e 5 ne avete letta di roba ok non mi fate leggere per pietà perché poi da domani potete inondarmi di mail di prova io risponderò a tutti con i miei tempi portate pazienza perché credo no sì domani sono ancora francese domani sì sono ancora qua perché il volo parte domani pomeriggio io risponderò a tutti però non mi fate vedere delle mail del tipo la nostra azienda è stata fondata dalla lungimiranza del nonno che poi ha traslato questi io sono commosso per il nonno per i vostri genitori cioè va tutto bene ma ditemi che tu vendi ceramica ok devo venderti un vaso punto ok se passi a prenderlo in negozio hai il 50% di sconto a casa te lo porto gratis credetemi che in 5 secondi questo ha colpito diciamo dimmi ci arrivo mi dai un secondo anche lì ti avviso perché quelle le ho messe io e tu mi dici ok quella la trovo molto bella ripeto per lo streaming tu sei Francesco dice devo aiutarmi con delle immagini ne parliamo fra qualche minuto chiaro immediato sintetico tendenzialmente sulle 250 parole voi sapete che Word ha il contaparole quindi potete farlo lì stile di comunicazione dov'è che ti rispondo eccolo qua in linea con il sito o comunque con la tua scusami non con il sito con la tua azienda ok la newsletter non è un comunicato stampa non è una lettera non è un fax io ho visto mettere anche foto a colori in un fax ho visto incollare foto dove sopra c'è il cielo sotto c'è il mare che così viene una macchia nera ok ho visto fare cose degli umani credo degli umani dovrebbero cioè insomma avevano sembianze umane ho visto cose che voi umani non potete immaginare sulla newsletter ragazzi abbiamo ancora tanto da lavorare ok però queste sono le macro linee guida evitate gli allegati perché perché gli allegati sono allora a parte la piattaforma leader italiana mail app qualcuno la usa la conosce qualcuno di voi usa piattaforme di mail marketing no a parte mail app che e dopo vi faccio anche un elenco di tra l'altro Francesco queste slide io le consegno a te ma poi loro le possono avere boh al fondo ci sono i 4-5 big a livello mondiale che mettono a disposizione piattaforme di mail marketing tolto mail app non mi risulta che le altre consentano in origine di mettere un allegato perché l'allegato è a mio parere sbagliato perché l'allegato dovrebbe essere un rafforzativo del contenuto della mail e me lo dovresti fare scaricare nella landing page questo consenti la landing page è il posto dove mi porti cliccando la mail sarebbe dopo che fosse lì l'allegato da scaricare perché poi ci sono anche dei sistemi che ti permettono di conteggiare quante volte è stato scaricato e da lì noi riusciamo a capire qual è la performance della nostra comunicazione perché se io ho mille click sulla landing page e nessuno ha tirato giù l'allegato significa che in quella pagina di destinazione ho scritto talmente da schifo che si sono cappottati prima di fare download e quindi dovrò migliorare ragionevolmente nella comunicazione successiva perché qua di imparato non è nato nessuno ce ne sono milioni ripeto di guru evangelist questi dei vari corsi in giro per l'italia che vi raccontano come migliorare la vostra vita diventiamo tutti belli biondi con i capelli lunghi ok dopodiché tendenzialmente non è vero perché se non fate delle prove costanti con una pazienza certosina la verità in tasca non ce l'ha nessuno allora landing page mirata dimensione ideale della mail che questo fa parte di nuovo anche signori del punteggio che questa mail prende per non diventare spam e qui introduco no questa non è mia non è mia e qui introduco il concetto delle immagini se voi mi mettete come drammaticamente accade all'interno della mail solo un'immagine con la scritta dentro quindi tu fai preparare una locandina è un jpeg è un'immagine non aggiungi testo niente puoi farlo quella non dico quasi certamente spam ma il solo peso dell'immagine senza testo perché il testo non si vede quello dentro l'immagine è brutta da far digerire ai filtri anti spam quindi l'immagine risposta alla tua domanda di prima è un'immagine d'appoggio poi ci deve essere il testo ok l'immagine anche qui pietà e misericordia purtroppo certe piattaforme di mail marketing non fanno la conversione automatica delle immagini e quindi voi vi trovate a ricevere una newsletter di mega e mega e mega perché avete la vedete proprio scendere ancora così no? come una volta quando c'è vabbè li ho solo visti io in moda ma 56k voi no però io li ho visti e quindi vi prego le immagini non dobbiamo passare un'immagine a un interlocutore che deve stamparla per fare i manifesti sull'autostrada che quindi deve essere in definizione ecc no? l'immagine deve trasmettere il concetto speciale crociera alle 6 shell quindi questa ha un'impostazione come vedete di un title ti mando alle 6 shell un sottotitolo non si legge benissimo ma ve lo leggo io in crociera a bordo dell'MS Galatea e soggiorno al Sun Resort quindi questo attore del travel ti sta già passando in due righe tre informazioni dove vai alle 6 shell vai in crociera all'MS Galatea che tanto chi la riceve come quando è per l'hotel fa taglia in colla va su google a vedere cos'è quella nave se gli mandate un hotel va a vedere su TripAdvisor quante palle ha che poi mediamente sono palle ma però tendenzialmente le palle ci sono no signora conviene con me e e e non sempre solo lì e ti mando al soggiorno al Sun Resort e quindi ti ho anche detto guardate l'efficacia di questa comunicazione dove su cosa e qual è l'hotel di destinazione poi c'è l'immagine diciamo evocativa su questo io chiedo ai miei clienti lo vieto le immagini devono sempre essere averitiere quindi mi auguro di cuore questa non è non è mia l'ho presa che quella nave che quella imbarcazione sia quella perché è veramente devastante mettere a parte che è dolento ma comunque non mettete mai e poi no devono essere ah no scusa perché generalmente le immagini vengono rigorosamente rubate su internet non si rubano le immagini su internet non si può rubare ah ma il web è pubblico no un par di palle scusate per lo streaming il francesismo le immagini non si comprano con pochi doll scusate non si rubano le immagini con pochi dollari si comprano se non le avete a disposizione dai vostri fornitori le immagini non si fanno le foto non si fanno fare se avete un'attività da vostro cugino perché lui vi ha detto che è bravo con la macchina fotografica ok lui vi ha detto che è bravo non è detto che sia bravo ok perché l'immagine è importante l'immagine parla più di mille parole quindi esistono dei depositi di immagini dove con pochi dollari possono essere comprati sono abbonamenti a una ventina di dollari che vi consentono se volete poi vi interessano io ve li passo tutti ragionevolmente se lavorate nel travel dovrebbe essere il tour operator o il fornitore l'albergo che ve li passa perché per lui è molto diciamo così è pubblicità da questo punto di vista però il concetto fondamentale è che le immagini non si rubano perché non è vero perché se sono su internet sono di dominio pubblico ti rispondo subito vado solo avanti crociera a bordo così via nella quarta riga che è quella sotto la cosa immediatamente dal 4 all'8 18 ottobre dall'8 al 22 novembre quindi qua vi dice la data quindi tre righe dove l'immagine quando in 5-7 secondi ci siamo rimasti a quel punto in realtà forse anche il pesce rosso va oltre perché se io sono rimasto colpito dal mittente credibile ah c'è Marino che mi scrive l'oggetto significativo poteva interessarmi le prime tre righe è molto probabile che io questa mail finisca di leggere anche che c'è la partenza da Roma che c'è un volo un pernottamento la cabina doppia quota a partire da 2300 euro le tasse europortuali incluse quindi magari vado anche avanti ok dove non concordo in questa mail a me non piace il bottone prenota ora perché mi angoscia quello dice adesso se schiaccio mi prende già i soldi dai prendi i soldi che non è possibile che ti prendi i soldi però il prenota ora molto spesso è un po' forte scopri di più facebook insegna forse è più diciamo così mi porta più a fare l'azione quindi la la call to action esatto dimmi pure una domanda legata alle immagini al posto delle immagini invece l'utilizzo dei video che spesso sono più efficaci allora ma voi fate finta qua perché Francesco mi ha detto ma no sono persone che non 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 dicono che non sanno la sua osservazione è veramente del vostro collega è veramente centrata dopo vi faccio vedere una piattaforma da dietro nel back office che consente di embeddare di di mettere dentro il video nella newsletter possono essere video nostri oppure caricati su youtube vimeo e qui casca l'asino allora se sono video di youtube e sono pubblici non capisco bene come potrebbe essere che tu ad esempio fai incoming su Bari io ad esempio per far vedere a uno straniero un filmato di qualche minuto e dargli l'idea di dove noi prima delle olimpiadi a Torino eravamo a nord di 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 milano il filmato noi abbiamo ancora oggi l'unico filmato degno di nota fatto dalla NBC perché quando la NBC è venuta alle olimpiadi Torino non era un punto cioè sulla carta geografica come andavano loro ve la faccio breve come andavano in America a spiegare agli americani dove venivano per le olimpiadi invernali noi non esistevamo prima del 2006 ok mentre lo scorso weekend artissima paratissima e altre mostre di arte moderna hanno fatto un indotto hanno fatto una ricaduta sul territorio da 10 milioni di euro avevamo gli hotel in sold out ok adesso con Torino Fil Festival a novembre avremo di nuovo i sold out le luci d'artista cioè per noi c'è stato un cambio radicale ma nel 2006 quindi ormai quasi una decina di anni fa non esistevamo nella cartina geografica ma neanche europea quindi gli americani hanno costruito dopo se volete ve lo faccio vedere perché quello è il filmato che io porto in giro come esempio perché in 10 hanno costruito un filmato loro perché probabilmente le nostre istituzioni cioè noi non gli abbiamo fornito del materiale e loro se lo sono venuti a girare con immagini dall'aereo hanno sbagliato qualche cosina al punto di vista storico piccole cose su fortezze della Val di Susa e quant'altro ma in realtà trasmettono un'emozione in quei 10 minuti da pelle d'oca ok noi ancora oggi 10 anni dopo io quando vado all'estero per progetti di incoming faccio vedere quello in realtà noi nel frattempo abbiamo buttato giù lo stadio l'unico pezzo obsoleto di quel filmato è che abbiamo buttato giù lo stadio e rifatto lo Juventus Stadium perché è nuovo ok quindi quel filmato lì è pubblico quindi penso che se tu fai incoming e dovessi far vedere qualcosa di Bari trovi un filmato veramente emozionale accattivante nulla vieta che tu lo riporti all'interno della tua newsletter però no 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 non può modificarlo non si possono alterare contenuti che noi noi li possiamo solo linkare a quel punto tu hai portato l'immagine quel filmato ma quel filmato non porta nulla a te perché quel filmato fa solo vedere a Torino è al limite sotto allora a quel punto tu mi chiudi la mail con una frase per dire se l'emozione tua da 0 a 10 adesso è 10 clicca qui perché io ti aspetto ok e questo ci sta alla grande se invece vi dovete costruire un filmato ad esempio su come vengono create queste opere di ceramica anche lì eviterei tuo cugino perché si vede immediatamente o eviterei il fatto che io e te andiamo col telefonino a farcelo questo vuol dire un investimento ecco perché la comunicazione costa perché sono tanti tasselli che messi insieme costano la bravura nel realizzare filmati da poter embeddare mettere in giro qual è cercare di farli se possibile nella misura in cui diventino il meno obsoleti possibile noi oggi dopo 50 anni abbiamo i tour operator che stampano quasi ancora tutti i cataloghi di carta da qualche anno a questa parte hanno avuto un'intuizione geniale e hanno delegato alle ultime pagine il più geniale di tutti è quello che lo mette fuori il listino perché quando tu hai pensato di stampare un catalogo nel travel come solo l'hai pensato è già vecchio ok poi sono saltate tutte le dinamiche dei prezzi o quant'altro ma invece le strutture le foto evocative insomma quello è di quel villaggio di quel resort di quell'hotel questo che cosa implica che loro oggi hanno strutturato una parte statica di quell'informazione e l'hanno messa da una parte la parte variabile è diciamo staccata che non rende obsoleta fin tanto che non cambia il resort poi il resort non è che domani mattina crolla o viene cambiato radicalmente quindi l'unico consiglio che mi sento di darvi è che il filmato nel limite del possibile possa essere il meno obsoleto possibile questa newsletter qui come vedete parte così ma partiva proprio così non è connotata cioè non ha un brand vediamo che cosa vuol dire siccome voi avete un logo avete un brand avete un'immagine cioè voi siete voi stessi è ragionevolmente diciamo auspicabile che questo brand venga costantemente rinnovato nella comunicazione e quindi portato quello che in gergo tecnico si chiama nel leader della newsletter perché? perché guardate i big player i big player quando vi parlano hanno sempre un leader perché io come arrivo lì dico toh è marino cioè ma è soltanto il mio abbinamento il cervello che dice è lui che mi sta di nuovo parlando ok? dopo vi faccio vedere degli esempi ok? quindi altro errore che molto spesso io vedo soprattutto nel mondo del travel è che vengono portati all'interno della propria newsletter della propria immagine del proprio brand della propria azienda i loghi di altri perché? vi danno dei soldi se vi danno dei soldi sì no no non ne parliamo proprio signora cioè se vi danno dei soldi sì poi dipenderà quanto lei chiede o quanto riesce a farsi pagare però un conto è brandizzarsi perché faccio del co-marketing oppure perché faccio in parte marchetta e pubblicità ma portare dentro il logo il nome di un tour operator per pubblicizzare un viaggio dove metto ancora nella testa già quello è andato a farsi il giro delle sette chiese o ha guardato sette milioni di siti in più ancora vado a dargli io il suggerimento mi sembrerebbe veramente stupido invitate a concludere quindi alla fine della newsletter un'azione sul vostro sito perché? perché se voi mi tenete il contenuto stringato tra i 5 e i 7 secondi e avete colpito a sufficienza l'attenzione non dico che sulla landing page potete scrivermi la divina commedia però se io ho già fatto clic per approfondire sono anche disposto a leggere molto di più quindi non mi avete frantumato le orecchie per diciamo così nel contenuto della newsletter ma mi avete detto bene se ti interessa vai a leggere l'offerta la mia proposta la mia visual direttamente sulla landing page allora guardiamo alcune landing page ok questa è una piattaforma che a cui io ho dato lo scheletro e ho detto che cosa siccome gestisco per loro delle campagne di email marketing e di social marketing è una piattaforma dedicata alle liste di nozze online quindi le agenzie di viaggio utilizzano questa piattaforma che è Amore per prendere le quote degli sposi e poi tramite un'app sia la gente di viaggio che gli sposi si controllano l'andamento della loro lista o tramite il sito questa landing page si questa dopo si grazie lei mi è tanto simpatica signora arrivando su questa landing page io ho detto dovete loro sono dei creativi anche dei grafici gli ho detto mi dovete dire quali sono i tre motivi cinque motivi per cui io devo fare la prova la demo cioè perché devo farmi la registrazione per comprarmi non per iscrivermi gratuitamente alla tua lista nozze si rivolgono a un target del travel in futuro si rivolgeranno anche a privati a degli sposi che si possono fare il loro sito e sfruttare tutte queste diciamo funzionalità in più non so se notate questa URL cioè questo ok questo indirizzo come vedete a un certo punto dice short facebook perché questa è la landing page dove io atterro nelle campagne a pagamento di facebook così io sono in grado di tracciare anche tutto quello che mi arriva perché poi quando atterro su questa newsletter scusate su questa landing page scrivo sono Davide voglio la prova gratuita invio io sono in grado di capire quante persone di monitorare quante persone che ho catturato da un investimento a pagamento sulla pubblicità di facebook mi porta quell'investimento ok allora i ragazzi hanno creato una landing page di questo tipo quindi proprio è una pagina è una pagina web no a tutti gli effetti dove c'è leader e leader del loro e il loro logo e il loro sito la solita lista nozze no grazie che cos'è amore perché amore cos'è perché cioè cos'è la lista nozze perché ti devi iscrivere e poi qui richiedi subito la tua lista omaggio agenzia referente telefono e mail il numero dei campi che voi chiedete nell'ambito di una promozione qualunque cosa ovviamente è a vostro insindacabile giudizio più ne chiedete più ne rendete obbligatori più rischiate che ovviamente la gente non ve li metta e quindi non concluda l'azione quindi questa roba qui è cos'è amore un servizio innovativo per la gestione delle liste nozze perché perché non ho costi non ho canoni non ho vincoli di vendita quindi là sopra mi scrivono e poi mentre io vengo giù lui mi dice guarda che la potrai fruire su un'app nel 2014 queste sono le funzioni ok quindi questa è la landing page che abbiamo costruito quando io ho catturato attenzione da una mail o da una promozione su facebook ecco perché uniamo un altro puntino no un altro tassello che lo chiudiamo vedete perché è tutto un processo coordinato di comunicazione non esiste solo la newsletter non esiste solo il sito non esiste solo il social cioè deve essere un accerchiamento che abbia un senso perché se no sono tutti i soldi buttati cioè le attività spot qua e là secondo me se vi tenete quei 100 200 500 1000 euro e vi fate un viaggio o andate a farvi della spesa o andate a mangiare secondo me è meglio non li buttate qua sopra sono tutti soldi sprecati vediamone un'altra questa ad esempio è mail app quando mail app fa delle campagne promozionali anche qui vedete source facebook anche loro tracciano la sorgente arriva da facebook loro hanno una mail una landing page molto molto simile qui l'acqua calda l'hanno già inventata eh signori la struttura più o meno è questa loro usano il loro header che è lo stesso header del sito aggiungono cosa fa e prezzi quindi se qui avete ancora voi siete arrivati qui perché avete chiesto la demo gratuita no scusate avete chiesto la prova gratuita del prodotto ok ma loro aggiungono ancora cosa fa e i prezzi come da dire se hai dei dubbi clicchi su cosa fa e io ti dico che cosa fa mentre amore ti diceva quello che faccio era di spalla loro lo delegano a questa parte poi cosa fanno mentre sono qui a raccogliere i tuoi dati bellissima questa frase difficile da convincere provalo gratis 30 giorni come da dire io te lo do molto subdola e molto efficace efficiente qua sopra vi fanno passare che loro lavorano per l'anespresso per coin per seconda mano per la coca cola per la costa per rana come da dire se lavoro per questi attenzione attenzione che il rovescio della medaglia è la signora dice ah ma allora se lavorano per quelli non è alla mia portata costerà un botto e sarà difficilissimo questo è assolutamente un ragionamento da tenere presente queste sono scelte aziendali e quindi voglio dire non non qui di nuovo non esiste nessuno con la verità in tasca ok loro usano nuovamente come vedete la spalla notate una pulizia estrema un'efficacia estrema una cosa che si fa leggere proprio molto volentieri perché mail app perché è 100% personalizzabile perché comoda perché dimentica l'antispam quindi vi fanno passare i concetti quelli proprio salienti e poi chiedono anche loro un minimo di dati per darti la prova gratuita per 30 giorni ok vediamone un'altra che ho sbagliato assolutamente sì mi fai ancora fare questa questa qua l'ultima questo è il Motor Village è Fiat fa utilizza tantissimo i canali social e ti dice la 500L è tua per tre anni poi restituiscila non so se avete visto queste nuove formule ultimamente questa è la landing page molto molto di molto 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 di effetto quindi supporto enorme dell'immagine ti dice è nuova per sempre ha mediamente sempre tre motivi per cui è nuova per sempre scegli la rata che vuoi noi ti diamo l'auto senza anticipo 36 mesi decidi se cambiarla o restituirla qui sopra chiedi il preventivo e introducono questo aspetto che si può anche fare nel vostro sito non costa assolutamente tanto chiama gratis quindi in quel momento siete talmente caldi che vi danno anche l'opportunità di mettervi in contatto direttamente esistono degli strumenti a pochi centinaia di euro all'anno che vi consentono anche di abilitare una chat al volo quindi qui mentre siete qui viene fuori un pop up e dice io sono online se hai bisogno chiedimi attenzione non sono quei cento euro è che dietro ci deve essere uno preparato in grado di risponderti collegato ok perché chi vi racconta la storia del fumo e la fuffa vi dice che è tutto figo e tutto bello poi peccato che bisogna lavorare questo lo dimenticano sempre nel 90% dei casi le chat sono fighissime certo devi avere del personale devi avere qualcuno che ci risponde devi essere in grado di rispondere devi parare come sui social ne parleremo fra mezz'ora un'ora gli insulti le bestemmie cioè devi essere pronto a tutto ok chiudo su questa cosa qui molto interessante perché ti dice questa 500 tu sei arrivato da questa da questa promozione hai mirato qui loro dopo averti detto questa è la 500 chiamami chiedi una prova o quant'altro qua sotto molto soft ti dicono scopri le altre nostre offerte avete mai comprato su Amazon o su siti analoghi si compri qualcosa e subito prima di finire l'acquisto ti dicono potrebbe interessarti anche quando state per comprare dico gli altri come da dire pezzente hanno anche comprato questo 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 ok quindi compri il telefono l'auricolare la custodia per tenere il telefono o quant'altro che è diciamo la proposta correlata quindi la proposta correlata io non lo vedo da pochi giorni sta diventando ve la faccio ricordatemelo poi sta diventando addirittura sta venendo fuori addirittura su Google da un po' di tempo se cercate un albergo là sotto si si c'è c'è si ma adesso sta arrivando su quasi tutto anche sugli immobiliari non solo sugli alberghi ti dice alberghi alberghi simili e io ho fatto un test su Torino i 4 stelle o quant'altro sulla similitudine ci beccano anche bene similitudine dal punto di vista dei contenuti servizi offerta ok questi di Mirafiori Motor Village della Fiat lavorano in questo modo noi abbiamo anche queste altre offerte dimmi pure allora se ho capito bene una volta che è partita la newsletter e si atterra sulla landing page non necessariamente poi c'è la conversione verso il sito diciamo l'azione richiesta direttamente sulla landing page che quindi diventa una landing è vero però esaustiva di tanti contenuti io la signora gli voglio bene me ne va questa è un'altra grande domanda lei dice io arrivo sulla landing page ma che cos'è la landing page te la traduco la landing page è un'estensione del sito quindi io devo avere un sito dinamico per cui ogni volta sono in grado di crearmi una pagina nuova dove vado ad atterrare perché quella è l'offerta di quel momento che poi morirà cioè dietro alla sua domanda si apre un mondo da un'ora e mezza e quindi io adesso oppure la landing page è one shot allora la risposta è che nel piano di comunicazione ti devi sedere a tavolino e bisogna decidere cosa fare non esiste credo la soluzione migliore allora potresti avere degli strumenti che ti danno a disposizione solo la landing page che è questa landing trattino motor village vedi non è il sito ufficiale del motor village hanno creato addirittura un dominio dove loro lì dentro convogliano solo ed esclusivamente le landing page e ne creano tante in funzione delle offerte è una scelta se tu mi porti però dentro una landing page del tuo sito quindi hai la possibilità di creare un url a un certo punto fai creare dal webmaster una url landing page dove lì dentro abbiamo tutte le landing page le creiamo di volta in volta queste pagine nuove che attenzione io vi suggerisco caldamente che siano uno scheletro dove di volta in volta perché tendenzialmente lui che farà l'ending page non credo che ribalti completamente la sua proposition cioè neanche voi avete un un TO un TO un TO di incoming come Francesco un po' diverso non è un TO perché sono strutture coordiniamo una ventina di strutture perfetto tu mi porti in struttura giusto? perfetto io direi che quando mi hai detto la macro immagine evocativa di quella struttura l'offerta di quel momento potrebbero interessarti anche e mi rifichi le altre 19 sotto di volta in volta mi cambi l'offerta e l'immagine e tu hai lo scheletro fatto qual è il vantaggio se quella pagina lì è dentro il tuo sito è che se io faccio 100 click di approfondimento tu fai 100 accessi quel giorno in più sul tuo sito forzati se tu mi fai una campagna su facebook e catturi mille click hai mille accessi a google piace questa roba qua perché ovviamente è così dov'è il rovescio della medaglia? è che se io finisco voi tracciate qualcuno di voi ha dei siti aziendali i vostri si li tracciate cioè guardate con google analytics gli accessi hai un tasso di rimbalzo più alto perché in realtà il tasso di rimbalzo io su travel advisor ho un tasso di rimbalzo altissimo 35% 40% perché io ho una marea di landing page degli articoli che arrivano se la persona non ha più voglia cioè oltre a aver letto questo non va a leggere un altro articolo abbandona il portale ma questo non vuol dire cioè è un tasso di rimbalzo che tu sai che esiste perché hai creato una metodologia di approfondimento del contenuto fatta in questo modo ben diverso sarebbe se tu non avessi nessuna landing page sul tuo sito e avessi tassi di rimbalzo del 50 60 70% vuol dire che fa talmente schifo che arrivano in home page e non vedono l'ora di andarsene ok quindi tassi di rimbalzo cioè quante volte me ne vengo via dopo aver visto soltanto quella pagina dove sono atterrato va calibrato in funzione della tua scelta io ritengo che secondo me tra landing page trattino motovillage e arrivare all'interno delle pagine sia meglio arrivare all'interno del sito anche perché innanzitutto lì dentro possono diventare pagine vecchie che non devono essere cancellate ovviamente perché google le indicizza ovvio però erano offerte scadute e non è neanche brutto certo non devono essere in primo piano ma non è neanche brutto far vedere che io avevo quell'offerta lì sei mesi fa non è mica disdicevole assolutamente quindi tutta questa roba qua andrebbe studiata bene per darti una risposta seria nel momento in cui tu metti un piano di comunicazione strutturato però la domanda è fortemente pregnante addirittura esistono delle applicazioni che ti permettono di creare one shot delle landing page addirittura su dei domini come posso dirti usegetta cioè arrivi sul loro mondo fai quello che devi fare contatti e chiamami e cose di questo genere e poi muore lì ok tocchiamo un altro tasto non dolente dolentissimo che è la compatibilità delle letture da mobile e fra qualche slide vi stupirò con degli effetti speciali poi tu vero che me le dai due dita due di acqua grazie vi stupirò con degli effetti speciali perché? perché le piattaforme di newsletter serie vi consentono di scrivere cioè voi scrivete sempre quella comunicazione ma quella comunicazione viene resa compatibile per essere letta qui sopra voi mi direte sì va bene ma non è che tu ti leggono da mobile sì potrebbe essere però adesso guardiamo i numeri che così è meglio che parlare allora sempre una fonte di mail app quasi vecchia di un anno dice che ormai loro ovviamente mandando via miliardi credo di mail per conto di quei clienti come avete visto a parte che hanno anche aziende normalissime professionisti o quant'altro il 30% delle letture ormai viene fatto su smartphone o su tablet quindi se voi mi date una newsletter con un'immagine piena ad esempio io se non faccio scarica immagini e il testo dell'offerta era lì dentro io non la leggo e tu mi hai perso oppure mi vedi che comincio a fare così sposto un po' per leggere vado un po' su vado un po' giù non è fruibile ok la tua comunicazione potrebbe aver perso di significato allora io ho fatto una prova mi sono preso un utente un mio cliente cavia e lui aveva due contenitori vi ricordate un'ora fa il contenitore di Excel e così via lui ha un contenitore end user cioè noi persone normale consumatori e poi ha un contenitore B2B quindi si rivolge a delle aziende ok quindi due target completamente diversi in realtà non è vero perché nelle aziende legge gente che è consumatore ovvio perché non ci sono robot che leggono in un'azienda peccato che l'azienda abbia una fruibilità diversa di lettura della mail perché mentre siete in azienda alle 11 di un giorno feriale dove la leggete la mail non fate conto su di me perché io ormai anche col pc davanti la leggo qua ma io sono malato come dice mia moglie o come dice l'altra mia figlia tu sei sempre lì sopra a non fare un no vabbè mi dice no ma tu tanto sei sempre lì sopra ok quindi si generalmente si signore dice di peggio però voglio dire ok alle 11 di un giorno feriale a parità di di mail a parità di oggetto a parità di mittente quindi il contenuto non lo può sapere nessuno perché decide il fruitore di aprire o non aprire la mail in funzione ovviamente dell'oggetto del mittente in prima battuta il contenuto non si sa la mandiamo ad aziende e a privati siccome questo mio cliente non credeva tanto al fatto a una piattaforma ma mi diceva eh ma tu magari Davide esageri sempre allora i numeri sono questi qui ho mandato alle 11 a un'utenza ve la traduco io perché magari non si vede benissimo questi strumenti di mail marketing consentono di tracciare tutto ciò che è successo tra quello che riescono a tracciare sono le aperture scusate i dispositivi quindi questa l'abbiamo mandata alle aziende alle 11 di un giorno feriale tu sei davanti a un pc però cominciano già esserci dei dati interessanti il 63% ha aperto la mail dalla webmail quindi non da outlook dalla webmail ok che la webmail non è outlook perché outlook certe volte è molto cattivo nell'interpretare la mail la spacca la disallinea generalmente la webmail non sempre è più pulita quindi è più questi strumenti di mail marketing ovviamente cercano di renderla compatibile con tutti i sistemi di client di post elettroniche esistenti non dico al mondo ma quasi ok a questo punto il 63% la legge da webmail il 34% la legge da desktop per loro il desktop è un client quindi outlook thunderbird non so che cosa sia e l'1,64% quindi quasi nulla da mobile siete pronti via 45% webmail 34% mobile 19% desktop questo è un end user noi alle 11 di un giorno feriale in giro se voi avete 10.000 indirizzi e quella newsletter non è compatibile mobile 3400 persone ve le siete fumate la tua ceramica cazzo è sta roba scusa ok una pausa mi dicono che dobbiamo fare una pausa ma andiamo ancora avanti un po' ok quindi quando tu porti questo al cliente sono finite tutte le discussioni qui i numeri sono impietosi questo numero qui devo fare ancora un po' di prove era di questa primavera devo ancora fare un po' delle prove perché probabilmente ho trovato un target forse troppo esaltato ma alcuni numeri mi stanno facendo passare il mobile sopra e la webmail sotto ok quindi stiamo arrivando al 50% dopo nove mesi di un giorno feriale della mail letta da mobile quindi se avete mille indirizzi 500 che non riescono a fruirla o devono cominciare ad allargarla o non fanno scarica immagini e così via tu il 50% non sei neanche riuscito a trasmettergli non era bella brutta scritta bene male 250 caratteri spam niente è che proprio non l'hanno vista ecco questo non implica la necessità di modificare anche le auto del messaggio ah certo ah già scusa facciamo torniamo indietro rewind vai questo non implica la necessità di modificare le auto del messaggio cioè se io devo leggere attraverso il mio schermo piccolino del cellulare devo leggere un messaggio nel quale ho inserito come abbiamo detto prima una bella foto della barca e tutto il resto e poi lo vado a vedere sul mio telefonino facciamo facciamo una cosa dopo l'esercitazione ci costruiamo una newsletter e ce la leggiamo in tempo reale qua vai grande domanda dopo ce la facciamo proprio tu non devi modificare nulla perché la piattaforma che cercherà di rendere leggibile ragionevolmente per tutti qui potremmo introdurre un altro argomento devastante che è il sito in modalità responsive cioè il sito che possa essere accessibile anche da un dispositivo come iPhone o Samsung o chi per esso attenzione che oggi non vuol dire mentre fino a qualche anno fa tu facevi la versione mobile gli hotel ad esempio la versione mobile degli hotel era dove siamo in contatto perché io se ti cerco mobile o bisogna di parlarti o mandarti una mail capire dove sei e se proprio mi dai la possibilità di prenotarti ok quindi ci sono dei booking engine che si adattano tranquillamente a prenotare tramite mobile oggi non è più necessario fare una versione web e una versione mobile è sufficiente avere un sito responsive in modo tale che io riesca dopo ti faccio un esempio di una monopagina di una di una dv scusa di un software per agenzie di viaggio dove lo vediamo qui e poi te lo faccio vedere scorrere qui ma non ho fatto niente io io ho caricato quelle foto quei contenuti nel layout predefinito ed è finita lì è lui poiché si preoccupa come la piattaforma di newsletter di rendermela fruibile cosa che Outlook non può fare frequenza ah ma dobbiamo dimmi la domanda mi era venuto in mente che io spesso guardo da mobile le mie mail in modalità web mail bella domanda però adesso poi non ne fare più basta ma questo è vino ah no ok perché sei qui in Puglia non mica scherzate non so risponderti nel senso che credo ma si potrebbe fare una prova perché è troppo interessante tu leggi da web mail leggi sul telefonino accedendo alla web mail no penso 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 che ti metta dentro quelli della web mail sì perché ma scusa un attimo ma perché tu non hai configurato la posta di gmail o il tuo fornitore perché vai a fare web mail punto non lo so cioè perché non la puoi leggere così come perché scusami con chi hai la posta con gmail e allora dopo vabbè dopo ti faccio vedere tu dovresti leggerle così tu dovresti leggere così ma non mi sono collegato più o meno così non è proprio così eh no certo perché se passi da web mail io vedi mail e le vedo così ma tu sei gmail anche uno è gmail l'altro no ne ho confluite due qui e allora no e quindi è solo un problema di configurazione però potrebbe diciamo allora frequenza e poi ci fermiamo a 5 minuti allora vedo solo cosa facciamo frequenza e terminologia e poi finiamo allora la frequenza la frequenza nessuno può imporla ovvio che io sono iscritto anche per vedere come si muovono cosa dicono come parlano che oggetti usano sono bravissimi nel testo io vorrei conoscere tutti i copi di Groupon i copi sono le persone che scrivono i contenuti questi devono vendere cioè un pneumatico le unghie e così via eppure se leggete con attenzione questi testi riescono a scrivere sempre tre o quattro righe veramente commoventi cioè devono dire nulla tutti i giorni eppure riescono sempre anche una gomma da neve a dirti che figa fatemela comprare no? quindi l'oro non esiste io ne ricevo credo 4 o 5 da loro 6 anche al giorno no? ok questo non è non c'è una regola perché direi che è qua la filosofia cioè tutto dipende da un piano di comunicazione tutto dipende da che cosa dobbiamo dire se abbiamo qualcosa da dire lui probabilmente potrebbe Marino mandarne tu avresti argomenti o contenuti per mandarne una al mese ogni 40 giorni una ogni due mesi senza forzare ok quindi lui è sicuramente lontano dallo spam lontanissimo cioè scusa ma non perché spam perché la piattaforma ti diciamo così ti salvaguarda da quello ma spam nella mia testa perché io non dico Cristo ancora Marino ok di contro di contro tu hai un problema che è quello che se mi parli ogni due mesi io rischio di dimenticarmi di te no quindi due mesi possono però è anche vero che lui deve fare di necessità virtù perché non può forzare un'informazione no se non facciamo finta che tu ricadessi all'interno di detrazioni fiscali fammi dire una cavolata allora a quel punto io mando un'informazione di supporto come si usa dire in gergo tecnico dove tu mi dici guardate che se comprate rifate bagni di questo tipo potete avere un'agevolazione quindi non c'entra niente con la tua tipologia specifica proprio finalizzata però mi dai un'informazione di servizio e usi questo diciamo così meccanismo per potermi per trovare un argomento per parlarmi dimmi pure buonasera quante volte mando una mail per una struttura turistica io struttura turistica immagino che per l'estate non ho bisogno di mandare mail perché le persone in quell'epoca mi cercano però questo è un periodo novembre è un periodo morto dicembre idem quante qui manderò delle mail che porteranno attenzione alla mia struttura e agli eventi della mia struttura quindi una ogni 40 giorni va bene come frequenza allora io nella tua tipologia sotto una volta al mese 40 giorni 45 non scenderei a Natale farei banalmente gli auguri ad esempio no che comunque voglio dire se sono anche scritti bene possono essere anche sempre piacevoli potresti ricordarmi che ad esempio ci sono delle manifestazioni potresti nei periodi morti ricordarmi che ci sono delle manifestazioni interessanti ragionevolmente raggiungibili dalla tua struttura e che non vuol dire che io parta prenda l'aereo da Torino e venga da te ma comunque posso dire ah però ok quindi assolutamente sì mantieni vivo un contatto non bucate i sei mesi nella tua tipologia per poi ritornare a pioggia nei sei mesi successivi perché questa è la cosa più deleteria che si possa fare allora quando utilizzate questi strumenti sentirete parlare di terminologia qui noi Francesco mi ha richiesto di rimanere a un livello umano mi ha chiesto di rimanere a un livello comprensibile dietro ognuna di queste slide in teoria noi dovremmo parlare qualche ora ok però adesso ci interessava dare dei concetti poi ognuno li elaborerà e deciderà che cosa fare di meglio nella propria vita anche niente mentre in quelli che vi devono vendere qualcosa sicuramente vi vendono qualcosa allora nella terminologia guardate almeno l'open rate quello che si chiama il tasso di apertura che è fondamentale e il click to rate ok sono le due cose importanti l'open rate eh l'open rate ci sono delle statistiche dei macronumeri che danno che danno i numeri dipende nel senso che dipende da tante cose allora una comunicazione io ho acquisito tu se fai incoming no dovresti avere un elenco di clienti potenziali profilati scusa no facciamo questo esempio sulla tua sulla vostra attività voi lavorate anche con agenzie di viaggio solo sul web però fai finta che adesso pensate a questo no che potrebbe non essere una stupidaggine prendi molto borderline in teoria non lo potresti fare però c'è l'annuario delle agenzie d'Italia sono circa 10.000 operatori tu lo compri è una comunicazione B2B tu non potresti mandare queste mail alle agenzie di viaggio per promuovere le tue strutture perché dovresti prima chiedere il consenso all'invio esattamente come abbiamo visto prima ma con una mail vuota che dice mi autorizzi a parlarti delle mie strutture sì no chi ti dà il consenso lo metti nel contenitore posso parlargli gli altri non gli dovresti parlare mai più questa è la teoria la pratica mediamente nel B2B se tu non diventi ossessivo quant'altro non c'è nessun tour operatoro quant'altro che si muove in questo modo e quindi parla la clientela business ok a quel punto se tu mandi queste comunicazioni a questa questa utenza in realtà stai facendo in senso buono spam perché non li conosci non sai se sono interessati a te e quant'altro in questi casi quando tu raggiungi tassi di apertura che vanno tra il 5 e il 10% dovresti stappare bottiglie di champagne ma di quello proprio iper galattico ok perché non avete profilato un target non state solo battendo invio su 10.000 indirizzi no in realtà poi ci sono dei trucchi perché io ad esempio quando faccio certe volte queste operazioni qui lo dico e tanto poi lo negherò giocando su determinate categorie giocando su un oggetto io raggiungo anche tassi di apertura che sfiorano il 50% mandando una mail di spam certo uso degli oggetti molto borderline su determinate diciamo anche con i ragazzi di amore l'abbiamo fatto ma non non traiamo in inganno nessuno l'oggetto è molto accattivante per la tipologia del destinatario in realtà io se ti scrivo prenotazione se tu scrivi a un albergo prenotazione questo tendenzialmente la apre giusto? perché prenotazione no? nel corpo della mail c'è scritto vuoi prenotarti alla cena di gala? no sono tecniche sono tecniche è arrivato dal non possiamo dargli il microfono perché non va bene no? quindi voglio dire ci sono ci sono determinate l'oggetto fa molto no? se invece avete un'utenza profilata e avete tassi quindi voglio dire vi hanno consegnato la mail il ristorante a Marino quant'altro e avete tassi di apertura che sono sotto il 20% eh insomma c'è qualcosa che non va perché teoria vi hanno dato la mail voi non siete degli spammer mi iscrivi ogni 40 giorni nei periodi cosa? poi spero che tu poi non mandi ogni settimana nei periodi di alta ma sicuramente non lo fai a quel punto i tassi di apertura bassi del 20 25 30% su un'utenza profilata o quant'altro c'è qualche cosina che non va ok però torno a ripetere non esistono tabelle precostituite bisogna fare delle prove e andare a verificare attenzione che questi strumenti verificato e toccato con mano con dei clienti su magari tre invii voi avete raggiunto il 100% eh delle persone no? non sono sempre gli stessi perché siccome questi strumenti ti dicono anche chi ha aperto la mail tu hai aperto tu mandi ad aprile e la aprono in 30% 3 su 10 e sono questi magari quella di maggio una parte sono gli stessi ma un 20% di quell'altro 30 no sono altri quindi magari con tre invii tu hai quasi il 100% di copertura quindi vuol dire che comunque il tuo target prima o poi ti legge infatti sempre i signori di mail app ultimamente mandano un argomento per volta e sotto c'è gli ultimi quattro c'è il link degli ultimi quattro dove loro ti dicono potresti esserti perso questo 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 e questo questo perché se io ho beccato la seconda volta quello che la prima volta non mi ha letto l'occhio cade sul potresti esserti perso che a me è un argomento che poteva interessarmi non ho aperto quella newsletter lì ma vedo che lì mi parlavano dell'antispam mi sono bruciato l'indirizzo di posta ci clicco e vado a leggermi quella newsletter a ritroso sempre che questo si può fare nella misura in cui non mi puoi mettere l'offerta che è scaduta perché sì è bella mi dici sai a San Valentino avevo pubblicato questa sì ho capito buonanotte ma tanto non ha senso ok quindi l'open rate va visto anche di nuovo con un ragionamento molto più più globale questi sistemi vi danno questa opportunità qui io qui è una lista 666 in B e ho avuto un tasso di apertura del 48 e 94% questa mi sembra che sia quella un po' con le mail con l'oggetto un po' particolare alcune piattaforme lui alcune piattaforme contano gli approfondimenti sul totale delle mail inviate a buon fine io non sono d'accordo infatti questa vedete che 24 su 322 è quasi il 10% non è il 3% io sono più propenso a contare i click su quelli che effettivamente mi hanno letto è vero che rapportati al totale delle mail a buon fine però come poteva cliccare quello che non mi ha letto quindi avere un tasso di approfondimento del 10% quasi su quelli che hanno aperto ok queste mail vi danno anche la possibilità di correggere degli errori perché scusate queste piattaforme vi dicono l'hard bounce e vi dicono chi è perché su quel numero 2 potete cliccare e andare a vedere chi è quindi l'hard bounce è le mail in errore quindi vi ho dato la mail aziendale ho cambiato azienda io non lo becco più questo qua ok perché gli hanno chiuso l'indirizzo di posta elettronica banale i soft bounce invece sono quegli errori temporanei non vi conviene cancellare quelle mail lì in errore perché potrebbe essere che soltanto per un motivo di recapito di posta sia andato in errore ma poi magari la volta dopo passa ok anche 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 ok considerate che pulire la lista degli invii dagli errori è positivo per la credibilità della lista ed è perché la piattaforma lo acquisisce come termini di credibilità quindi una lista che ha pochi errori e che non ha segnalazione di di spam è una lista attendibile e quindi venite visti bene anche dalla piattaforma di newsletter che state utilizzando questo è molto importante poi dopo parliamo dello spam 5 minuti 10 minuti dimmi tu noi siamo qua facciamo 10 di 먹ero 10 minuti 10 minuti 10 minuti 10 minuti 10 minuti 10 minuti Grazie a tutti.